Si è svolto ieri pomeriggio il congresso provinciale dei giovani democratici di Trapani che ha visto una grande partecipazione e interventi di dirigenti e rappresentanti eletti del partito trapanese siciliano e nazionale. All'evento inoltre era presente la segretaria generale della CGL di Trapani, Lampi e i giovani di alcune forze politiche di opposizione al governo nazionale come il Movimento 5 Stelle, Italia Viva, Rifondazione Comunista e Azione. Il congresso è stato anche occasione per comporre la nuova segreteria provinciale che sarà composta da Alice Oddo, Alessandro Messina, Riccardo Patti, Antonino Occhipinti e Salvatore Rugirello. In maniera unanime poi è stato eletto come segretario provinciale il giovane Davide Gallina. Dopo quasi dieci anni i giovani democratici celebrano il loro congresso provinciale. Voglio ringraziare tutti i ragazzi per l'opportunità che mi hanno dato eleggendomi a segretario. Voglio ringraziare il partito che è stato assolutamente unito e coeso nel sostenere la formazione e l'indipendenza della giovanile. Abbiamo iniziato da una serie di iniziative, dall'evento sullo psicologo scolastico ai gruppi di automutuo aiuto all'apertura della sede in funzione di aula studio. Siamo pronti per il 2024 a svolgere numerose altre iniziative. Grazie a tutti.